Pagelle velocissime in attesa di tutte le altre partite, dopo anche per rispettare un po' la tradizione faccio queste pagelle. Lopez 5, secondo gol è tutta colpa sua, è un'uscita veramente da horror, film horror. Spinazzola 5, non ha spinto per niente, assolutamente, è stato quasi una presenza insipida, non ha dato nulla alla partita. Smiling 5, avevano giocato bene fino al sessantesimo, dopo i giocatori dell'Atalanta li hanno fatti ballare all'interno dell'aria, sia a lui che a Fazio ha un altro 5. Anche il secondo gol ferme come ballerine, una difesa bruttissima. Color of 6, perché almeno lui come al solito con la sua fascia la prende di personalità, l'ha fatto, le sue sgoppate, è stato presente sia in attacco che in difesa 6, non di più. Cristante 5,5 nel centrocampo, dopo il sessantesimo il centrocampo non è esistito più e Cristante ovviamente, Cristante parte di quel centrocampo, così come Veretut. Veretut è 5,5 anche lui, non ha portato dinamismo alla partita, ha fatto passaggi quasi elementari, ma niente di più. Zaniolo 6,5, l'unico, non si è capito perché è uscito, l'unico che ha fatto qualcosa, l'unico che portava dinamismo, l'unico che cambiava il passo alla Roma, 6,5. Pellegrini 5,5, ha fatto qualcosina ma non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Pellegrini ha una posizione in cui tutti i palloni dovrebbero arrivare a lui, quindi se non arrivano a lui è perché lui non se li va a prendere. 5,5, Florenzi 5, male nel trio d'attacco, ma male anche in difesa perché 5 è una presenza veramente pallidissima, quella di Florenzi. Zecco 5, è vero, non è arrivato nessun pallone, ma state attenti, nelle azioni pericolose è piazzato male. Quando per esempio con Zaniolo due volte non è pronta a prendere il passaggio, è un po' lontano, quindi 5. Subentrati non parlo di Fonseca, mi dispiace, mi dispiace davvero perché è un allenatore che mi piace, ma 5. Quando fa uscire Zaniolo con la partita è finita là, non ha letto la partita sia prima che dopo. Ragazzi sono le altre partite, vi saluto a tutti e era giusto per rispettare la tradizione. Ciao a tutti, ciao!